Ho ho ho! Ho ho ho! Ehi babbo! Ciao babbo! Ciao piccolino! Ciao babbo! E cos'è quello proprio che è accanto? Volevo dire quel bambino che hai lì accanto! Siamo tutti i miei piedi! Sì babbo! E anche io! Mamma mia siete combinati male ragazzi ma va bene! Ricordaci qualcosa babbo! Ah si! Lei è ammazzata! Ah! Io non ho visto niente! Babbo aspetta! Aspetta! Questi... Questi elfi... Non sono più come una volta! Ho 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 ho! Ho 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 ho! Ho 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 ho! Yeee! Ciao a tutti ragazzi! Buon Natale! Buon Natale! E bentornati su... Eeeh! Glitch! Bene! Oggi siamo con i fan in questo video molto molto natalizio! E vediamo inquadrato... Siamo su vortice! Leeeeee! Sì! Siamo con due diamanti master! Void! Non vorrei dire qualcosa! Comunque sia! Dalla diamante in su, prossimi master! Sì! Sì! Vediamo inquadrato in alto a sinistra il protos rosso... Swayx! Swayx! Mentre in nell'angolo... Patrick Swayze! Patrick Swayze! 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 Non vediamo nessun... Nessun gas! E sta andando leggeramente... Botta di culo a scautare! E astutamente a scautare! Veramente che culo! Bravo! Sì! Le APM di Mr. Nice Guy sono folli! Sì! Mentre cosa... Cosa possiamo vedere a casa di Swayx? Un gas e un gate! Un gas con una sonda! C'è stato l'incontro delle due sondine! Si sono dati... Si sono... Dati il 5! Ecco! Lo vanno quasi a raccogliere il nostro Gino e il sondino! Che è entrato, ha contato più che altro i piloni e cosa ha visto? Ha visto semplicemente un pilone, un gas e un gate! Esatto! Mentre però Mr. Nice Guy si sta prendendo... L'espansione! L'estamente un'espansione! Seguito appunto dalla raffineria, dalla... Dalla... Gas da parte del Terran! Sì! Da raffineria intendevo il gas! Ma è uguale! Quello! Mentre a casa del buon Swayx sta uscendo finalmente... C'è un troppo civernetico! E il secondo gas! Dal gas! Bene! E anche dall'espansione! Quindi tutte e due stanno improntando il gioco sulla macro! Si sono, sì! Espansi quasi allo stesso momento! E si stanno tutte e due... Mr. Nice Guy corso un pochino prima! Stanno continuando a scautare! Beh, è chiaro! E questa cosa ad alti livelli è molto utile! Soprattutto perché ha visto questa sondina! E quindi forse andrà a scautare per vedere se c'è qualche edificio nascosto o qualche porcata! Esatto! Non sappiamo mai! Esatto! I Protoss non si sa mai dove ti costruiscono qualche pilone o qualcos'altro! Sta uscendo il cuore di mamma e sta iniziando la ricerca del portale dimensionale! Mentre si sta facendo a casa del buon Mr. Nice Guy il centro di comando orbitale! Comando orbitale! In questo è uscito il primo Gagliardo Marine! Marine, sì! Che verrà messo... Ah, il secondo Gagliardo Marine! Il secondo Gagliardo Marine! Che verrà... Verranno infilati in quel bunker! Sì! Per proteggere la natural che riusciamo a vedere qua in questo momento! Sì, bene già! E mentre in partire il tuo gino il sondino di Mr. Nice Guy continua a scautare! Steve! Sì! Non si ferma! Mi piacciono i vari disegni sulla mappa! Sì che si vanno a creare! Sembra una sorta di zergling! Ah? Una roba strana! Vabbè! Ma che visione hai degli zergling? Comunque sia! Brutta! Ci sono altri due... altri due portali... altri due gate da parte di Swikes! Mi piace come è perfettamente saturata questa base! Sì! È proprio... È... È ordinata! È ordinata e perfettamente saturata! Sta arrivando finalmente la fabbrica insieme alla caserma! Alla seconda caserma, sì! E c'è anche in produzione l'Officina Bellica! L'Officina Bellica perché? Perché vuole andare di bio e soprattutto per farsi le torrette! Perché non si sa mai! Esatto! E fa anche bene a farsi le torrette! Perché sta andando Swikes, sta andando di Portale Stellare! Eh, il Portale Stellare è una... E di Robo! E di Robo! E di Fabrica Robotica! Io direi Trigate Robo più Stargate! Una... Sì! Una roba... Così simile! Questa build... Cioè per questa build order gli serve veramente tantissimo gas! Infatti tra poco... Tanto! Tanto! Vedremo chi si andrà a prendere anche l'altra espansione! Sì! Steampack! In ricerca da parte di Mr Nice Guy con torretta... Atta a proteggere la sua... Preventiva nella natural! Atta a proteggerla! Posizione strana! Secondo me è perfetta messa in quella posizione perché qualunque cosa arriverà qua! Sì lo so però... E lo becca! Molto probabilmente ne farà un'altra qua! Probabile! Probabile! Ma vediamo se il main ce l'ha! La sta costruendo in mezzo! Sta arrivando anche lo spazio porco da parte di Mr Nice Guy! Nel frattempo sta uscendo da parte di Swaggs l'oracle! Il primo oracle e anche il primo... Il... Il... Il primo... Salvatore e l'osservatore! Salvatore e l'osservatore! Esatto! Scan da parte di Mr Nice Guy che ha visto sia lo spazio porto che il... L'ha beccato ma proprio che culo questo scan! Sì esatto! Preciso preciso! Tac! A quattro minuti e mezzo ricordiamoci amici che se noi siamo a terra ne dobbiamo fare uno scan al protos lo facciamo lì! Quattro minuti e mezzo! Preciso! Vediamo come... Vedi due torrette che proteggono ampiamente questa... Ok quella la capisco molto di più! Questa natural! Quella centrale! Sì! Lo stimpac è quasi a metà! Anzi oltre la metà! Si aspetta qualcosa in arrivo Mr Nice Guy! Qualche... Porcata... Qualche porcata in arrivo perché se no non avrebbe fatto due bucke! Esatto! Evidentemente Mr Nice Guy ne ha passate di cotte e di crude contro i protos! Per essere arrivato... Per essere arrivato... Dov'è arrivato Master Diamante ne deve aver fatti di game! Decisamente! In arrivo! Uh laboratorio robotico! Il laboratorio robotico vuol dire o Disruptor o Colossi! Sì! Sì! O qualcos'altro! Mi viene... La prima cosa che mi viene in mente vedendo il laboratorio robotico sono appunto Disruptor e Colossi! Terza da parte di... Shwykes! Shwykes sì che continua ad espandersi e arriva di nuovo l'Oracle che però trova soltanto le bocche dei fucili delle torrette aperte! Envision sulla medivac che lo porta esattamente sopra le difese e vede tutto! Perfetto! Complimenti a Shwykes! Complimenti a Mr Nice Guy per la decisione di mettere... Eh ma non se ne è nemmeno accorto! Soprattutto poi anche... Anche Shwykes ha avuto un bel colpo di spirito a fare una mossa del genere anche perché un'Oracle o lo butti o... Eh beh è chiaro! È chiaro! Finalmente completo il laboratorio robotico vedremo cosa uscirà dal... Sì Colossi! Perfetto Colossi! Quindi a breve vedremo anche esatto le lancio termiche! Le lancio termiche perché i Colossi senza lancio termiche sono come gli Zergling senza la luce! Sono semi inutili a meno che non sei gran mastra dei livelli disumani! La terza sta arrivando ma non vedo ancora nessuna terza da parte di Shwykes che continua a produrre e rimpolpare le sue unità! Sta arrivando... Sta finendo il più uno d'attacco e anche la ricerca dello scudo! Dello scudo! Sì! In arrivo due liberatori da parte di Mr Nice! Aha! Un altro Envision da parte di quest'ora col Molesto che... Che tiene continuamente sott'occhio l'armata di Mr Nice Guy e visto anche i liberatori che sono arrivati! Sì! Ormai la terza di Shwykes è pronta! È semi saturata anche e c'è l'Observer che è lì! Bello! Bello questa posizione per eventuali drop! Sì! Perché non lo vede così Mr Nice Guy! Per eventuali drop è veramente ottimo! Quanto mi piace dirlo Mr Nice Guy! Sì! Guarda che bel posizionamento! Questi due osservatori! Uno qua! Uno qua! Uno stalker qua! A proteggere... Cioè... A proteggere... A sorvegliare la terza di Shwykes! E infatti qualcosa... Sta iniziando ad arrivare! Soprattutto ancora l'Envision dell'Oracle! E quindi Shwykes sa esattamente tutto! Ho finito soltanto 8 ora ora! Di nuovo Envision! Di nuovo Envision! Vediamo come sta reagendo! Sta tornando indietro con praticamente tutto per riuscire a prendere il contropiede! E ha troppato qualcosa! Sincere liberatori! Sincere liberatori! Stanno arrivando questi stalker che non hanno il blink! E niente! Mr Nice Guy si sta concentrando! Guarda la skin! Guarda la skin del colosso! Quanto è bella! Che ha la versione... Ha la versione... Ah sì! Quell'altra! Retail! Sì! La versione limitata! Caduto al brucio il colosso! Si è stato one shottato! Guarda quanto sono forti insieme ai liberatori! Quanto male riescono a fare! Comunque dovrebbe riuscire a tenerlo! I Marine hanno un DPS veramente tantissimo! Anche perché i Marine adesso sono più uno! E' arrivato anche l'overcharger del pilone! Questa medivac è riuscita... E... Una medivac è riuscita a salvarselo! Si è salvata una sola medivac! Cioè in ricerca da parte del protosso soltanto adesso l'1-1! L'1 di attacco e l'1 allo scudo! Abbiamo visto nel frattempo un po' di ecatombe da entrambe le parti! Terza ninja da parte di Mr. Nice Guy! Ninja! Muso giallo! Ninja! Continua a passeggiare sotto i vicili occhio degli osservatori! Sotto anche i... I vari... I vari vision! Si! Utilizzati perfettamente! Sta arrivando anche il concilio del crepuscolo! Non sto venendo ancora a Forge per ricercare potenziamenti da parte di Schweikes! No! Questo è vero! Questa cosa mi perplime! Ti perplime? Si! Come mai non sta ricercando i potenziamenti? Ah no! Scherzavo! Ce li ha! Sono io che sono Teco! Perfetto! Sono io che non vedo la forza del Kalas! Mi piace la linea di produzione di Mr. Nice Guy però! Sta facendo belle cose! Si! Mi piace soprattutto l'ordine! Tanta roba! Soprattutto l'ordine! Da quello che possiamo vedere sta andando di bio pesantissimo! Maniacale! Sta andando di bio pesantissimo! Non mi piace! Guarda quanto mana ha! Madonna mia! Potrebbe chiamare veramente di tutto! Probabilmente si sta tenendo il... Cioè... Ok! Ah! Ah! Madonna mia! Va bene! Si è accorto che... 2, 4, 5, 6, 7 muli! E' scomparso in un attimo il mana di quella... Ottima cosa! Infatti tra poco vedremo innalzarsi in alto a destra... I minerali impenneranno in una maniera... Più 3.000! Infatti 3.000 e passa! Più 3.000 e rotti! Ci sta! Ci sta! I lavoratori però sono bassini rispetto a quelli di Schweik's! Ah si decisamente! Come possiamo vedere sono 65 lavoratori da parte del Protoss contro i 44 da parte del Terran! Da parte di Schweik's nel frattempo stiamo vedendo... Sta arrivando qualcosa finalmente! E parte il fatto che sta arrivando con un'armata decisamente preoccupante! Un'armata quasi della morte userei dire! Ma questo colosso... C'è in ricerca la carica dei... Guarda che figo sto colosso! Che carino! Che carino è vero! Mi piace così bianco! Nella versione comunque non retail! E' la versione... Mh... Altro... Non me la ricordo! Ambition! La versione limitata! Il pre-order ecco! Il pre-order! Perfetto! Nel frattempo vi ho visto 7 gate da parte di Schweik's in produzione! La carica per gli zeloti! Aia! Con il più 2! Questo ingaggio praticamente lo sta vincendo Schweik's! Si si! Perché sta andando a mangiare qualsiasi marina con... Forse questi liberatori insieme a questi viking possono fare la differenza! Datti! Datti! Carino questo scan! Mamma mia! Guarda quanto... Quanto non vanno giù gli zeloti! Veramente! Ottimo! Quarta in arrivo da parte di Schweik's! Che ci sta! Che ci sta anche! Ma diamo un'occhiata all'armata! E cos'ha l'amico Terra? Guarda! 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 Quattro viking! Ma è sempre questi invision bellissimi! Di quest'oracle che continua a girare! Porca Peppa! E a buttare invision! Usa tutto in sua mana sull'invision! E lì dall'inizio della partita praticamente! Comunque il Terran ha quattro viking, due liberatori, nove marauder e venti... Tredici marauder e venti marina! Mentre l'amico Protos... Schweik's, l'amico Protos, ha tre colossi, quattro adepte, tredici stalker, un oracle... Finiscila di produrre roba! Non è vero! Continua! Un oracle, un core di mamma e degli altri templari! E soprattutto sta arrivando l'archivio dei templari con tempeste che la risposta... Un altro invision! Le storm! E la risposta naturale è appunto alla bio! E ci sta! Infatti, mi piace che questo Protos sta rispondendo con dei massificatori e la bio! I massificatori sono i colossi e gli altri templari! E gli altri templari con le storm! E l'amico Schweik's, mi aspetto, che faccia Ghost! Sì! Ghost a pacchi! Qua non gli... Come? Ah? Non sa che c'è! Wait, what? Ah, perché sta facendo il giro pensando che la quarta sia lì! Sì! Ce l'abbia da qualche altra parte! Esatto! Perché se andava diretto qua, dicevo, ma come ha fatto a scontargli? Ma pacca! Cioè, è intuizione totale! Esatto, esatto! Cioè, proprio... Questa fortezza planetaria la vedo male! Mi piace la... Anche sì! La torre sensoriale! La torre di rilevamento messa esattamente qua per informare, per fare una telefonata... Infatti, Mr. Nice Guy già sa che sta arrivando! Sì, ma forse è veramente tanta roba! Vediamo questi riusciti! Ah, ma sono un bel po' di Marauder anche volendo! Un po' di DPS, Mr. Nice Guy! Bellissima la storm! Gli ha fatto male! È abbastanza! Mi piace come sta splittando il tutto! AIA! Mamma mia le storm! Dolore! Mamma mia le storm! Però forse è veramente tanta roba... Porca pupazza! Mr. Nice Guy... No, forse... No! No, è... Nì più che altro! Nì! Lo scambio è quasi... Eh... Sì! Quasi allo stesso livello! Però a questo punto sono rimasti leggermente più cose a Swykes! Sì! Sono rimasti quattro stalker! Soprattutto quel colosso e quell'altro templare! No! No! Più avanti! Fatti più avanti! Sì! Ah! Uh! Uh! Scesi i viking che adesso si concentreranno sui veri stalker! Ha commesso il gravissimo errore Swykes di passeggiare sotto quel liberatore! Sì, sotto il liberatore! Che gli ha ammazzato praticamente quasi tutto! Sotto l'aureola di morte del liberatore! Il 3 d'attacco è in arrivo da parte di Swykes, mentre il 2 è ancora in ricerca da parte di Mr. Nice Guy che si sta rivelando comunque indietro rispetto al Protoss! Un pochino, un pochino! E soprattutto la grossa mancanza che sto vedendo a casa di Mr. Nice Guy è l'assenza dei Ghost! Sì! I Ghost sono l'unità da fare! Perché Caro non ti fa i Ghost? Eh... non sappiamo, ormai non si stia facendo i Ghost però è importante farli! Visto che a Natale facciamo i bambo a Natale di Stark, scriveteci ragazzi! E cosa vedono le mie fosche pupille? Il faro della flotta in arrivo! Ah! E qua sta rifacendo lo stesso giro immagino! Eh sì! A sto punto andrà nell'ipotetica quinta! No, no! Gli ha scautata! Gli ha la vista! Probabilmente ha girato con l'oracle della vista! Ah sì, sì, probabile! E quindi saluterà comodamente la sua quarta! Decisamente! E adesso... A questo punto mi piace di più la linea di produzione di Swykes! Perché sta facendo più roba! Eh! Sta ricercando anche il blink e il 3 d'attacco è proprio tanto! Che è all'incirca a metà e il 3 di attacco che farà malissimo! Sì! E' un grosso forse! Ma lo so! Ho visto tutti quegli stalker! E' veramente... No, sì! Potrebbe farcela! No! Come non detto! Non ce la farà! Non ce la farà mai! Ormai... Death Orbital! Boston! Eh! 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 Merda! Eh! Ma tanto comunque crolla lo stesso perché ha 20 punti vita e continueranno a scendere! Ormai brucia! Ciao! Prova a cercare di prenderlo dall'altra parte! Con gli zeloti che fa! Ha chiuso... Guarda quanta roba c'ha Swykes! Guarda quanta roba c'ha Swykes! Guarda quanta roba c'ha Swykes! Cioè un Protoss ormai è quasi infermabile adesso! Quanto a darmi supply a 125! No! Swykes! Adesso si sta rimpolpando un po' però... Darmi supply a 125! Pagliamone! Però... Cioè... Swykes è anche a 3 d'attacco! Sì! Decisamente! E si stanno avvicinando... Guarda quanti star portà! Cioè quanti portali stellari ha? Sì! Cinque portali stellari! Perché se perde tutto il piano di Swykes è quello di andare pesantemente a Air! Di Tempest! Di Tempest! Nabi Madri! Di tutto! Cioè... Di Carrier! Sì! Penso che arriverà col mondo! Come ho questa impressione! Col mondo aereo! Qua adesso... Saluterà! Dei Protoss! Farà perdere un'espansione alla volta al buon... Sì! Guarda che mi piace come manda poche unità per vedere effettivamente se... Sì! Va a vedere cosa c'è! E cosa non c'è! Si assicura della presenza! Ah! Uh! Bellissima l'Invision! L'Invision immediato su tutto! Che adesso verrà one-shotato praticamente quell'Oracle! No! Ce l'ho fatto a sopravvivere! La Planetary praticamente è caduta! No! Dolore! Mamma mia! Madonna santa! Le Storm hanno fatto la differenza! Hanno vinto le Storm questo ingaggio! Torca Peppa! Quanti danni hanno fatto le Storm! L'unica cosa che può fare è tirare giù quei Viking cercando di fare una sorta di danno! Però... No! C'è troppa roba! È finita! Troppi stalker da parte di... La produzione è bloccata da parte di tutte e due! Link che ha praticamente chiuso i marauder che c'erano e niente! Sono a marcia della morte! E GG! Complimenti! Bella partita! Ok! Allivato! Bella partita natalizia! Molto! 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 Due, tre, quattro, cinque basi! Sì! Non ne ha persa una di base! Mentre il buon Mr. Nice Guy ne ha perse ben due! Sì! Ne ha persa una qua e la sua ninja che ha cercato di tenerla nascosta il più possibile però... Le ninja sono ottime quando non vengono scautate però contro un giocatore del calibro di Schweik's che ha saputo usare egregiamente questo... L'oracle della vittoria perché così solo... così si può definire questo oracle! Eh già! Cioè che ha fatto mono and vision per tutto il game! Praticamente sì! Fantastico! Veramente ottimo! Non l'ha sprecato! Non è andato a perderselo contro la torrette! Ha mantenuto perennemente in vita quell'oracle! E l'ha sfruttato secondo me meglio rispetto a un mero attacco! All'utilizzo standard che di solito si fa degli oracle! Quello sì assolutamente! Ci piace questo observer! Tra le frasche! In mezzo alle palme della cara a vortice le... Sì! Beh, calo calo! È stata una bella partita! È stata una bella partita! E il Terran ha perso! Ha vinto un Protoss per Natale! Soprattutto il Terran ha perso! Tra l'altro anche colori... Questo è un presagio! Ha vinto un Protoss per Natale! Ha vinto un Protoss per Natale! Anche colori natalizi giusti! Sì esatto! E la cosa che ha fatto perdere secondo me il buon Mr Nice Guy è stata la mancanza di spread e di micro delle sue armate anche perché qua... E di ghost! Perché qua l'ha tenuto tutte... Sì! Ha tenuto tutto e compatte le proprie forze su tutte le tempeste! Non ha splittato sotto le storm del Protoss! E la cosa grave che ho visto che è mancata al buon Mr Nice Guy innanzitutto... Gli manca... Non ha fatto potenzialmente alla velocità di... Assicci nel senso! Di Swikes che era 3-3 mentre stava ancora finendo il 2 di attacco! E non ha fatto i ghost! E non ha fatto i ghost! I ghost con le MP fanno veramente la differenza! E possono sniperare gli alti templari e renderli quasi inutili! Amici! Commentate, condividete, mettete mi piace e passate alla pagina Facebook! Iscrivetevi al secondo canale! Iscrivetevi a questo canale se non l'avete fatto siete delle brutte persone! In basso a destra c'è Glitch, cliccateci sopra! Lesti! Comunque sia iscrivetevi! Sì! Che cosa dire? Buon Natale a tutti! E chi non si iscrive... Buon nasale! Buon nasale! Esatto! Questa citazione la coglieranno in pochi! Esatto! Chi non si iscrive... Chi non si iscrive... Che cos'è Igo? Dillo tu! Chi non si iscrive è questo pezzo di Marauder messo qua! Con l'anima che lo abbandona! Ciao!